Abbiamo anche aperto nuove agende per consentire loro di prenotare la dose. Sappiamo che 10.000 persone hanno già prenotato la loro dose nel corso di 24 ore, perché 24 ore fa è stata... Adesso monitoriamo costantemente queste agende e apriamo, compatibilmente anche con le risorse di personale che abbiamo, apriamo nuovi posti per garantire a tutti la possibilità di prenotazione. Sappiamo che non tutte le persone che hanno più di 40 anni e alcuni anche di quelli che hanno superato i 60, dai 60 ai 75, non hanno ancora maturato i tumuli di 180 giorni per poter accedere alla terza dose. E quindi quelli sono come... Viene impedita loro ad ogni prenotazione, quindi c'è un ostacolo anche in questo caso. Può essere dovuto anche questo. Abbiamo aperto anche il sabato e la domenica, comunque intanto a Trento, il sabato e la domenica prossima e apriremo anche la successiva per aumentare la possibilità, insomma, di tutti di potersi vaccinare e poi controlleremo la mani. Grazie, dottoressa Zuccaglia. Grazie. Grazie.